Casazza diventa cartello di stop per il ciclone ucraino, ma di rosso vede subito il cartellino. Il brasiliano Bilica rileva ruolo inedito di portiere, ma conosce bene le abitudini di Shevchenko dal dischetto e para con consumata perizia. Repliche immediatamente sulla ribattuta, poi si arrende ad Orlandini. Pensavo in prendere quel rigore. Sapevi che avrebbe tirato in quell'angolo? Si, si, perché sono convinto che lui è sempre si batte a sinistra di portiere.